Ora andiamo di fretta Torniamo fuori Ok E' stato veloce il viaggio per arrivare la Comunque dai ci ho messo poco Dai non sono soltanto lento Volevo essere veloce e lo sono stato Quindi Siamo continuamente veloci Sto continuando a correre è incredibile E Vabbè io mentre vado avanti Vi intrattengo vi parlo un po' E quindi Voi datemi la vostra opinione Avanti con la costa Dobbiamo andare Da dove cominciamo Allora fammi vedere Possiamo spendere qualcosa di argento Potenzio Armatura busto Compra Possiamo comprare cose che non ci saranno adesso Petta di assoluzione non possiamo Non possiamo Non possiamo Risorse E questo possiamo comprarli ma non Non ci saranno in questo momento Felizia del gigante di ghiaccio Vabbè non Non pensi sia Importante Risorse insufficienti Scezione la dente Stemma della fiamma Stemma superiore della fiamma Stemma di sutro Quanta roba Alito di tamburo Possiamo comprarlo se avessero tutta sta roba qua quindi Quanto quanto ne sa via? Cento di tutta la dente quindi E' uno spreco eh Allora Vediamo se facciamo potenziali qualcosa Dove potenziali solo quelli equipaggiati Praticamente Guarda Quanti del tempo distrutti Suppongo che tu preferisca mio fratello Hai torto naturalmente No non preferisco tuo fratello Semplicemente Non voglio potenziare adesso perché Se no non avrei Non avrei controllato Ma non voglio potenziare perché Non voglio perdere tempo e E delle Dell'argento per niente Quindi voglio Voglio proprio Stare attento a queste cose Poi in base a quello che spendo adesso E a quello che mi rimane Deciderò su come spendere Nelle prossime difficoltà Vedrò a modo mio La Poi in base a quello che spendo adesso Dottor La Poi in base a quello è L'agre in base a quello che potenziali Lo vien Dov'è che è meno fermato? Aspetta, devo andare qua dentro E fargli giuro di dentro Allora Quale c'è qua? Questa è venuta fatta mi sembra Lì, ok Al 100 Prendi l'oro, perfetto Aspetta, dobbiamo prima prendere questo L'ho visto, eh Aumenta di dura ricarica in modo permanente Perfetto Cioè con l'aumenta intendi di diminuire Perché dovrebbe diminuire, no? Se no, se aumenta non è un vantaggio Qua in mezzo praticamente Questa isoletta che c'è qua in mezzo Avamposto degli... E sotto la superficie Elficiali Sotto la superficie Trofè guagnato Avamposto degli elficiali Quindi questi sono quelli buoni Dovrebbero essere quelli buoni Eeeh 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 Nooo Nooo Stai accettando Oh Che schivata Oh ma che cavolo Fatti gli affari tuoi Fatti gli affari tuoi Muori Qua mi prende un pezzo di vita Aia ma è arrivato un successone Sì però Allora tu hai rotto Tu hai rotto di te 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 Stirpe Allora Nuovo bestiaro giunato Come faccio a vedere il bestiaro Mentre sto combattendo Eeeh Ho perso quello che ho da leggere Ho perso quello che ho da leggere Qua Ok Posso evocare una parete di ghiaccio Dietro come cui ripararsi Mio padre può cercare di colpire Con l'ascia Quando spuntano fuori Oppure lanciarla Oltre di chiamarla Per colpirle da dietro Sì potrebbe essere Un buon modo Aia Sì ma Una Una cragnata Della bestia Proprio eh Vai 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 Ok Esperienza Acciaio Orco feroce Questi orchi hanno dimensioni simili a quelli normali Ma possono coprire a lunga e distante con un solo saldo Inoltre puzzano da far schifo Chi sa perché sono sempre così furiode Non lo so perché sono quelli furiode Magari avranno i loro problemi Della vita Lasci li Lasci li stare Non è che devi fare Questo si può aprire Allora qua possiamo andare sopra Qua non possiamo andare sopra Qui ci serve la catena Probabilmente possiamo tirare giù quello Sperando che non sia una cosa che despauna Perché non penso però Non ci sa mai Argento Perfetto Qua c'è un coso con un cristallo E non possiamo aprirlo L'unica strada in cui andare è qua Praticamente qua davanti Hai un nuovo follower Grazie follower No serve l'altra frezza CRN Ah l'R è lì L'R l'ho vista Io facciamo cose di cristallo Capisce quello Agente Perfetto L'R l'abbiamo trovato Ok manca la C e la N Dipo ci siamo colpiti a qualcosa Ah è saluto giù Perfetto Mi fai salire e scendo tutte le volte Non mi capito Vabbè va bene Insomma Andiamo ad andare avanti Però Qui non c'è niente La vita La vita Siamo massimo Lì c'è un'altra cosa a colpire Ok Perfetto Stiamo collegando ti passaggio Però io non capisco dove sono le altre lettere Se ci fosse un modo per Sapere dove sono almeno Cioè non dico di trovarle E li hai completamente Cioè te li distruggi direttamente Però sapere dove sono Qua sotto c'è un buco nero Ok Qua non si può passare Però c'è una catena C'è una catena qua No non possiamo No Possiamo aprire questo Ok abbiamo una porta aperta Che stallo possiamo raccoglierlo Ok Qui c'è il buco nero Argento Ok Abbiamo collegato lì sopra Ogni volta dobbiamo mettere le frecce sciocche Perché Non so mai che uso cose sbagliate Lì vedo un n Lì vedo un n Ok l'ho preso La c La c Non si vede Lì c'è qualcosa altro da tirare giù Ok Ok Polve da regno Ok capito Che capito insomma ho accettato Più che capire però Qua c'è un cristallo da poter smuovere Qui manca solo la C Che non so dove sia questa C Magari Magari sarà più avanti Ce la troveremo più avanti Tanto non abbiamo finito quest'isola da fare Dobbiamo fare un po' di strada ancora Argento Argento Sto controllando se c'è la CIA Siate Freclusi nelle cose Che abbiamo attraverso Ce la c'è la lettera Dice da rompere qualcosa Argento Ok Qui però se andiamo di qua Forse è permanente Indietro Eh ma colpito Mi ha dovuto colpire Se no non ne ha contento Ah qua serve il cristallo Qua serve il cristallo Che non possiamo portarlo su Perché è sotto È sotto il cristallo Non possiamo attirarlo su In qualche modo Ma possiamo scendere qua A volte che vogliamo Guarda qui Guarda qui Guarda qui cosa Cosa hai visto La lettera forse Lei c'è un cristallo La c'è un cristallo La c'è un cristallo Non la vedo Deve essere davvero Non la scosta bene Se non la vedo Perché proprio non la vedo Ok non è permanente Ah ci fa tornare indietro Da qua Da qua possiamo tornare Direttamente qua Senza fare il tuo giro Ah ma adesso Abbiamo la strada sbloccata Aspetta Dobbiamo scendere Aspetta un attimo Fammi scendere Qua Il cristallo La c'è ancora Non l'ho trovata E non la troveremo mai Perché probabilmente Sarà in un angolo Nascosta bene Ma intanto non andiamo avanti Perché l'importante È portarvi questi gameplay Da portarvi la storia Che magari avete visto L'altro Ma non Come la faccio io Guarda questo cosa Tu muori E tu muori Non ce ne sono più Ok Così possiamo tornare Di nuovo qua Tutto collegato Tutto collegato Questa presa Vediamo se c'è l'acce intorno Sembra di no Vediamo se c'è l'acce intorno